Corde vocali d'oro questa donna. Guarda, ha fatto un'interpretazione, come il filo del microfono, un'interpretazione strepitosa, ti viene voglia di essere americano quando vedi queste cose, ma poi invece torniamo qui. Invece no, rimaniamo lì, io sono partita con Amanda, 22enne, poetessa, poetessa da quando aveva 8 anni, la prima poesia l'ha scritta a 8 anni. Allora io l'ho sentita, a parte la bellezza di questa ragazza, quando l'ho sentita, poi di solito però noi mettiamo, ci vergogniamo di quello che abbiamo, invece lei è essendo brava. Io neanche ho 8 anni, quando l'ho sentita, lei ha declamato un suo componimento, una poesia, un componimento molto intenso, molto bello. Io ho sentito questa ragazza e dicevo, ma che voce stupenda, come recita bene queste parole, e mi ha proprio catturato in maniera molto affascinante. Allora questa ragazza ha sofferto di un disturbo del linguaggio, quando era piccola, pesantissimo, era di una timidezza patologica, aveva paura di parlare di fronte a chiunque. E direi che c'è stato un discreto riscatto, perché adesso ha fatto questo suo discorso, prendendo anche dei pezzi di testo da Hamilton, che è un musical meraviglioso che io ho visto a Broadway due anni fa, strepitoso. L'ha fatto davanti a pochi intimi, diciamo. Davanti solo a tutto il mondo, davanti a tutto il mondo, e ha detto delle cose che io ho qui, e devo leggere naturalmente con gli occhiali, perché non ho 22 anni. Questa è una delle frasi che mi è molto piaciuta, se useremo la misericordia insieme al potere e il potere insieme al diritto, allora l'amore sarà il nostro solo lascito e il cambiamento, un diritto di nascita per i nostri figli. Ora, vedere, cioè sentir parlare di misericordia e di amore in questo luogo, che il 6 gennaio è stato luogo né di misericordia né di amore. Ci ricordiamo cos'è successo con gli ultimissimi giorni di Trump. Secondo me è veramente... Giacangeli quello... Giacangeli il cornuto peloso, ecco. Adesso abbiamo questa ragazza che parla di amore e di misericordia e dice frasi tipo Abbandoniamo le braccia ai fianchi così da poterci sfiorare l'uno con l'altro. Ora, in un momento poi di pandemia dove dobbiamo stare anche tutti separati, non ci possiamo toccare. Io trovo che sia veramente potentissima quello che questa ragazza ha detto, voluta tra l'altro da Jill Biden. È Jill Biden, la moglie di Biden che l'ha voluta a tutti i costi. Io volevo dire un'ultima cosa, lei è un personaggio femminile molto forte che abbiamo visto in questo insediamento. Abbiamo un vicepresidente Kamala Harris che insomma è molto forte anche lei. Poi abbiamo avuto Lady Gaga che ha cantato magnificamente. Abbiamo avuto Jennifer Lopez, tra l'altro di origine portoricana. Quindi insomma zona del mondo con cui Trump ha avuto da ridire. Insomma abbiamo avuto tanti tipi di donne. Ecco, io trovo che sia un tale cambio di passo che questo nuovo presidente si è fatto rappresentare da tante donne. Ora, io non sono una che si ritiene appagata perché vede delle donne su un palco e dice ah ti sei fatta fregare, hai visto le donne sul palco, c'è la parità. No, la parità non c'è, vi do una notizia. La parità non c'è, però è anche vero che il messaggio, l'immagine è talmente potente che comunque noi abbiamo un presidente che stava un po' sullo sfondo, un signore molto elegante che stava sullo sfondo circondato da donne forti di tante razze, di tante età. Ma vi rendete conto di quanto è importante questo messaggio? Scusate, fatemi finire e poi me ne vado. No, non me ne vado, resto, ma sto zitta. Sto zitta con questa frase che rubo a lei, rubo ad Amanda e che però per me è importante e che voglio usare per noi donne. Lei ha detto finché avremo gli occhi sul futuro, la storia avrà gli occhi su di noi. Lo dico, la rubo a lei, noi donne ragioniamo così. Ci voleva un applauso. Sì, e non ce l'ho mai. Te lo possiamo fare due maschi, accontentati.